Ciao a tutti, sono Pamela Scribano, direttrice tecnica dell'Istituto La Mimosa di Ragusa. Se stai vedendo questo video è perché hai visitato il nostro sito, ma non hai ancora prenotato la tua prima seduta di rimodellati a domi e fianchi. Se sei ancora inecisa sul prenotarla, ti chiedo di fermarti un attimo. Rifletti su quali sono i tuoi obiettivi. In questo momento non ti piaci? Ti guardi allo specchio e non riconosci più il tuo fisico? Non puoi indossare più gli abiti aderenti perché non ti senti più a tuo agio? Se sei in questa situazione, ti prego di fermarti e riflettere su come sarebbe diversa la tua vita se finalmente riuscissi a tornare in forma. Come questo ti farebbe sentire bene non solo con te stessa, ma anche nelle relazioni con gli altri? Scommetto che saresti più solare, sorridente e sicura di te stessa. Da oltre 35 anni aiutiamo le donne a ritrovare la loro forma fisica e ti assicura che non c'è nulla che mi dà più soddisfazione. Il sorriso delle nostre clienti. Essere in pace con se stessa e amare il proprio corpo è sicuramente la chiave per una vita più bella e soddisfacente. Quindi se vuoi davvero cambiare la tua forma fisica, indossare tutti gli abiti che desideri, sentirti a disagio e tornare finalmente a sorridere davanti allo specchio, non ti resta che prenotare il tuo primo trattamento di rimodellate domifianchi. Clicca qui sotto e lascia i dati sul nostro sito. Verrà ricontattata telefonicamente. A presto! Grazie a tutti!